bella vecchietà, siamo tornati con un episodio del rottuto di video one e finalmente siamo ancora qui siamo sempre qua e già ora mi non è che tanto ti devo che è rinascente unesimo e abbiamo giocato due minuti manco dai che dove sta a farlo? ma che è sta storia? ma che ragazzo? oh oh come se non bastasse prendiamo anche il gol cioè perfetto anche a un presenizio del video vabbè cazzo no no quella di casa elevatee se te che ti metti in mezzo al cazzo il passaggio era per me senti il passaggio l'ho fatto io quindi uso io con bicchiera eh per me no era che compagni di solito mamma mia senti vai a dormire per favore sto buone male vai ok ok caputana non muore della sia ma che è che c'è ma che è che c'è c'è troppo soltanto vabbè 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 fa culo non ce voglio credere dai ma che vuol dire ti romò vabbè 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 no cazzini ci vediamo vabbè da relazare buona vabbè anche perché non ci ho voluto vabbè chieda a me geometra ihnen la nostra ricassi vada tornandiere guardano l'ho grazie coglione berco se vuoi un berco per tutti i tempi che e poi caputata la vera che ci sta in cinque giocanti ma io ho giocato chi si dispera ora lo sta per terra se muove porca droga io lo sbravo lo sbravo la seconda partita dai si può fare ecco la seconda partita in azuma eleven in fondo neymar cromley in azuma eleven versus xgrone in azienda che fa un'incredibile fantastico saluta comunque stende casa mille piedi ricorda mille piedi 3-0 3-0 no da vero va a farlo scatto lungo cristo dio per quello che cos'è fallo dove che fallo è che cazzo di fallo è che pensano fuori testo da qui l'uomo lei cammino modesto è vero lei cammino 15 aprile va bene come se cazzo lo dico mamma mia l'ho visto presto di merda torna dietro passare non lo passavo sto scherzando mamma mia non è fatta l'uomo che si sa che andava per pallone grande avvicini dato luis si avvicino gail aspetta eh perchè è così centrale adà era mai avvicinato a gail no che vedi gail ora recupera il pallone e commette fallo mortacci tua vinto dice che la manazzata come cazzo ha fatto abbassare sto pallone in mezzo 85 mamma mia che numero acquero Tira! Sturca! Sturca miseria! Sturca miseria! Vai William! Occhio al centro Occhio al centro c'è due che hanno a te al centro Questo è anche lui Ma non è possibile Dobbiamo pari E traverse Comunque è Neymar quindi è onesto Golbedissimo Bravo! Incredibile E ti vogliono che il crosetto Un po' dal lato col cazzo che ti fatti corsa Ah Jesse Biggman Vado a te che ti fatti corsa Mannaggia Basta! Quanto chiacchi di chi Stai lezzito! Cioè con tu minuti le prima partita Tanto so pezzicino se vuoi dire che ci metti Sì ci metti, non te lo occupo Non ciò metti perchè non ho detto così Però ti lanciare sti messo Guardalo! Guardalo che cazzo ha fatto Guardalo E lo devi fatti E lo devi fatti OEEE! C'è un gollo A quello C'è un gollo C'è un gollo C'è un gollo Dai, qua abbiamo pure l'ultra C'è un gollo Guarda il taglio Non lo devi fatti Hai lotto il cazzo di mo' ti li fa Porco due Ho capito ma guarda che palla di me che ha stoppato Io ti ho detto che tu la chiedi però poi devi fatti C'è Porco due Questo è Agab C'è ha deciso che la devi passarla Guarda che culo Boh Pia Che cazzo Sto la cercatene Prendi la sua Sto la faccia che se la faccia la finta e andai indietro e la goglia vero? Guarda Prigate C'è un gollo E' un gollo Mamma mia Eden Il giardino Il desiderio Ma è stato un grande spostato da il bruis Che? Guarda è deciso Era deciso C'ho la nuova calamita qua la palla Ma l'hai visto? Me l'ha fatta Che cazzo Porco cale Senti cero che te lo venga Senti Va bene Ma l'ha fatto sempre Scusa C'è Ma l'ha fatto musica Devi morire Tanto sai che devi morire Porco No no vabbè No vabbè Dimmi se questo non è script Dimmi se questo non è script Dai C'è Ma l'hai visto il portiere ad allentatore gliela l'ha dare Che l'ha passata Vabbè Vabbè L'hai visto tutti com'è andata Cioè l'ultimo Ho capito che il joystick n'è il tuo però scusami Ma che è il tuo? C'è per questo però vabbè L'avete visto anche voi com'è andata la partita no? Quindi non c'è da commentare E abbiamo fatto un punto in due partite Dai e vedete una prossima Bella Ciao